L'Italia dei Valori ritiene che sia necessario andare a votare a queste primarie. Io personalmente, lo annuncio qui per la prima volta, io andrò a votare alle primarie del PD pur essendo il Presidente dell'Italia dei Valori. Ci vado come cittadino perché voglio contribuire a scegliere il mio candidato Presidente. Non ho difficoltà. Io vado a votare nel mio Molise e nel mio Molise si deve scegliere appunto il referente regionale. Io appoggio il candidato Frattura che si candida, è un renziano Frattura per intenderci, appoggio il candidato Frattura rispettando gli altri. Però faccio una scelta di campo innanzitutto dicendo che è necessario evitare questo frazionamento infinito di partiti e partitine. Lo dico io che ho fondato un partito. Frattura che unisce, è un problema. È un candidato Presidente del centro-sinistra. È un Presidente di Regione, Frattura, che è stato votato e scelto dai cittadini del centro-sinistra composto da partiti dell'Italia dei Valori, del Partito Democratico innanzitutto e di Sello. Io voglio assumermi la responsabilità insieme a tutto l'arco del centro-sinistra di fare una proposta politica. E in questo senso io domenica andrò a votare e per quanto mi riguarda andrò a votare nel mio Molise e ho già detto che appoggerò Paolo Frattura con una scelta di campo. Grazie.